Beni per un valore complessivo di 12 milioni di euro sono stati confiscati dalla DIA ad un commercialista di Messina coinvolto in numerosi procedimenti penali per truffa, finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misura di prevenzione del Tribunale dopo il blitz dei uomini della DIA coordinati dalla Direzione Distrettuale contro la criminalità organizzata. Secondo le indagini, il commercialista Denebrodi avrebbe da sempre strumentalizzato la sua attività professionale per la costituzione di un sistema truffaldino fondato sull'utilizzo di schemi societari non corrispondenti al dato reale attraverso il quale è rivolto a suo vantaggio consistenti contributi di natura pubblica, tra cui gli incentivi previsti a favore delle attività produttive delle aree depresse, così realizzando un imponente arricchimento personale. L'odierna misura riguarda nuove imprese operanti nel campo dell'assistenza fiscale, dell'assistenza agli anziani e in quello immobiliare, sette appartamenti, un fabbricato e 17 terreni situati nelle province di Messina e Palermo, nonché decine di rapporti finanziari.